Allora, buongiorno da Italia Zulu 4, Victor Cadexier, vinco quasi sempre, è il quasi che mi frega, in compagnia di Italia Whiskey 4 Delta Zulu Kilo, eccezionalmente, in direzione attivazione sotto. Per descrivervi il personaggio, narrerò una vicenda di anni e anni fa. Allora, io ragazzino, dodicenne, acquistai un baracchino, un cibino, da quest'uomo qua. Al mio primo QSO, io persona educata, dissi, ciao, io mi chiamo Alessandro, te come ti chiami? La risposta fu, io non mi chiamo mai, mi chiamano gli altri. Vabbè, e poi ho deciso di continuare, saluto il 73. Allora, da Monte Sant'Antonio, Italia Eco Romeo 0,75, solito setup, antenna di polo, bibanda, e messa in questo spiazzo qua, per il taglio legna. Ringraziamo Italia Whiskey 4 di ZK Delta Zulu Kilo, che mi ha dato un passaggio, e quindi praticamente questa volta a piedi ho fatto 5 metri, forse. L'antenna va bene, a onor del vero, lo Xiegu, all'accensione, mi ha dato un piccolo problema software, si è acceso e non compariva niente sullo schermo. Non è una cosa simpatica. Adesso, ditemi se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema, e che è possessore dello Xiegu. Da Italia 124, Big Top ad Xiegu, ha vinto quasi sempre in quasi 2003, attivazione sotto Italia Eco Romeo 0,75, 73. Questa parte del video, l'avevo registrata ieri, ma non la trovo più nella scheda di memoria, quindi la rifacciamo. Due parole solo sull'attrezzatura che uso, è veramente molto molto minimale. Allora, la radio, ieri ho utilizzato lo Xiegu, l'X6100, e a parte quel piccolissimo problema software all'accensione, che poi ho capito, semplicemente avevo tenuto, premuto troppo a lungo il tasto di accensione, quindi non era un problema software, ma era un errore mio. Di solito al posto dell'Oxiegu, posso usare l'FT817, o il Kilo Navemberg Quebec 7Alpha, quell'apparato molto molto minimale. L'antenna, il dipolo, in configurazione invertita, b-banda, il cambio di banda viene effettuato con un agendo su questi due piccoli interruttori, con i suoi bei picchetti, che se no non si riesce a stendere. Sistema di alimentazione, io utilizzo questa, è una batteria ad uso motociclistico, ioni di litio, ha un'ottima autonomia, bella robusta, ha un indicatore grafico luminoso dello stato di carica, e sulla linea di alimentazione, io compro sempre lo fusibile, non si sa mai. Il cavo quarsiale è un R118, è un pochettino rigido, sono dieci metri di cavo, sono anche troppi, ma almeno ho modo in attivazione in sorta di trovarmi un posto per me riparato, che so dal vento, e posizionare l'antenna nel modo migliore. Considerato che il vertice dell'antenna è a circa 5 metri da terra, ed è sostenuto da questo palo pesante, corto, e circa 60 cm, il compatto chiuso, della Dixwire, e il suo bel puntale, che è molto molto pratico. Non è altro che una bacchetta di ferro con due semi-anelli per contenere il palo di vetro resina. Mi dispiace perché il video di ieri in cui mostravo l'attrezzatura si è perso. Frequenza in uso? Sicù, 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 Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, sicù sotto. Italia, Norvegia 3, November, Juliet, bravo. Italia, Norvegia 3, November, Juliet, bravo. 5,9, QSL. Buonissimo, che arriva, abbastanza bene, 5,9, 73, buon fin di settimana. Grazie, 73, referenza sotto Italia Ecoromeo 075, ciao, grazie. Italy, November 3, Alfa, Delta, Florida. Italy, November 3, Alfa, Delta, Florida. 5,9, QSL. Sì, QSL, buongiorno, per te, 5,7 qua in Nord Italia, in Alto Anice, grazie mille, ciao. Roger, Roger, ciao, ti ringrazio, un piacere risentirti. Riferenza sotto Italia Ecoromeo 075, ciao, buon fine settimana. Ciao, ciao. Oscar Ecorri, Germany, Germany Sierra, Alessandro. Roger, Oscar Ecorri, Germany, Germany Sierra, 5,5, QSL. Ico, Alfa, 2, Delta, Tango. Ico, Alfa, 2, Delta, Tango, ciao, Manuel, come potresti mai mancare? 5,9, QSL? roger ai copi sierra five seven mike sierra stroke portable is correct bonjour my friend florida five japan japan kilowatt kilowatt roger avanti india lima foxtrot roger oscar eco six golf november delta ai copi delta charlie five golf mike delta charlie five golf mike quesce ecco alfa 3 ecco victor lima five nine hotel bravo nine hotel bravo nine over ok italia whisky 3 alfa golf ontario qsl oscar eco seven alfa juliet tango five nine india uniforme 1 kg golf sierra molto educato e molti educati quelli con uniforme nel collo ti ho spaventato italia uniforme 1 kg golf sierra avanti 59 no 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 il mio era un complimento è sincero c'è lo spelling del denominativo perfetto allora italia chilo 2 uniforme mike eco 59 italia uniforme november november uniform roger italia uniform 3 november november uniforme 599 qsl ok italia zulu 5 delta chilo india 59 allora italia whisky 5 bravo november canada qsl please correct my call italia zulu 4 victor queen sierra victor queen sierra victor queen sierra victor queen sierra qsl roger roger italia zulu 4 victor queen sierra portable qrp and uh uh yes 5 entry 5 entry into altivenia please tell me my report uh your report is at five eight five nine five eight five nine please repeat your call thank you roger 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 my call is yankee oscar 6 sierra mexico portable and the reference is yankee oscar echo charlie 569 yankee oscar echo charlie 569 to tell me who ask what's the question this question my friend thank you bye bye 73 monчик pericol così Corporation mi roger 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 i chi buongiorno, grazie, 5 e 9, il tuo rapporto è 59, 59, 70, grazie grazie a te, mio amico, bye bye Sì, 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 Sì Golf 6, November Hotel Whisky Golf 6, November Hotel Whisky, è vero? Sì, 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 S QSL, QSL, my friend, Mike Seven, bravo, India Alpha, five, five, QSL. Sierra Victor, three, India, eco, gold, Alessandro, five, seven, five, seven, QSL. QSL, your call, Sierra Victor, three, Italy, eco, gold, face, correct? Roger, Roger, Alessandro, Sierra Victor, three, India, eco, gold, your signal, report is five, seven, my name is Dinos, my name is Dinos, QSL. QSL, QSL, thank you, 73, Calispera. Sierra Papa nine, tango, whiskey, five, nine, QSL. Roger, Ontario, Milano, uno, Ancona, xilofono, five, nine, QSL. Ontario, Milano, uno, Ancona, xilofono, five, nine, QSL. India, eco, tango, over. Foxtrot 5, India, eco, tango, five, nine, for you. Thank you, my friend, Foxtrot 5, India, eco, tango, five, nine, thank you, bye bye, 73. Bye bye, 73. Siku, sota, siku, sota, siku, sota, Italy, Zulu, four, Victor, Quebec, Sierra, portable, QRP, Italy, Zulu, four, Victor, Quebec, Sierra, portable, QRP, siku, sota. Summit to summit, summit to summit. Avanti, summit to summit. This is Sierra, five, six, kilo, Victor, Juliet, portable, Sierra, five, six, kilowatt, Victoria, Japan, portable, over. Roger, Roger, Sierra, five, six, kilo, Victor, Juliet, five, nine, reference, sota, Italy, eco, Romeo, zero, seven, five, QSL. Roger, Roger, Hotel, Alpha, seven, whiskey, Alpha, five, five, QSL. Roger, Roger, Italy, strength, Alistair, Mexico, one, extra, five, five, six, kilowatt, Ontario, Mexico, one, extra, five, six, kilowatt. Allora, ti piazza il sota? Sota. Il sota, 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 iota.